Siccome non è niente da fare, vi faccio vedere una cosa, vedete questi bicchieri qua sopra? Questo qui, questo qui, questo bicchiere ha già 60 anni, mi ha dato 6 di mia società, sono di mia società, questo è veramente olio zecchino, e poi ci sono questi, stiamo un annullo in rombo, e questi mi ha dato, 6 di questi e 6 di questi, vedete? Sono antichissimi, 60 anni, a me piacciono le cose belle. Poi vi faccio vedere la bilancia pesa oro di mezzo a Nicola, questo qui, che c'era il soggiorno. Ma c'è il funerale? Sta passando di qua, sento Padre Carlo. Sì, il funerale c'è. Padre Carlo, questo deve essere Bologna. a me. La macchina del morto. Scusate, mi faccio il segno della croce, ecco. Certo, era un professore conosciuto.